Buongiorno a tutte e a tutti. Vogliamo provare, come WIC, a proporvi alcuni brevi pensieri sul rapporto tra natura ed educazione. Viviamo un tempo ed uno spazio caratterizzati dalla mancanza, dalla distanza, dalla distanza dagli altri, dalla natura, ma che paradossalmente ci costringe a concentrarsi su ciò che ci manca e a ridargli valore. Viviamo un tempo in cui anche è difficile fare scuole ed educazione e anche solo parlarne. Gianni Rodari, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita, in una sua filastrocca parla di una scuola grande come il mondo, dove tutti gli aspetti della realtà, a partire da quelli naturali, insegnano e aiutano ad imparare. Cosa ci insegna la natura? La natura, sia chiaro, di per sé non insegna nulla a nessuno, è muta. Perché vi sia significato e vi sia apprendimento serve un soggetto che entra in relazione con le cose e nel dialogo interiore con se stesso e nel dialogo con gli altri dia forma al mondo. Ma nella relazione con la natura possiamo in realtà imparare molte cose. A guardare? Ci insegna a entrare in relazione, a vedere le relazioni tra le cose, tra noi ed esse, dei nostri modi di guardare e ciò che vediamo. Ci insegna a comprendere e apprezzare la complessità, a chiederci che cosa ci lega agli altri viventi, ai contesti, agli ecosistemi. Ci insegna a vedere e comprendere la bellezza, ad accettare sfide, a mettere alla prova le nostre capacità, andare ogni volta oltre, a stupirci, a cambiare punto di vista, a capire che ogni nostra conoscenza ha dei limiti, ma al contempo che apprendere si può e che è possibile. E questo non da soli, ma con gli altri, apprendendo dall'esperienza in un continuo gioco di costruzione di ipotesi, di modelli, di teoria. Tutto questo lo possiamo fare in allegria e con desiderio di sapere. Diceva in un'altra sua poesia Gianni Rodari, vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo? Quello che serve è una scuola, un'educazione che coltivino da un lato il desiderio di sapere e dall'altro attrezzi a pensare il futuro. Così, per concludere, possiamo fare nostra l'esortazione di Rodari che nella sua lettera ai bambini diceva è difficile fare le cose difficili, parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare cose difficili, dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi. Buona giornata mondiale della Terra a tutti e a tutti. Grazie.